Le opportunità del PSL, le proposte europee e regionali, il modello GAL-Irpinia, un distretto rurale per lo sviluppo delle aree interne a Proda, a Bisancia. Riporteremo al centro della politica comunitaria soprattutto i piccoli comuni che diventeranno protagonisti della nuova programmazione e in un intreccio con le grandi sfide legate all'agricoltura, legate all'ambiente, legate al pilastro sociale, ha la capacità di portare anche più Stato, più servizi, più opportunità in questi nostri territori. Questa è una zona meravigliosa per fare alcune produzioni che in Italia ormai mancano, quello di una filiera zootecnica allo Stato Brato, perché credo che produrre carne qui, in questi famosi pascoli anche di queste zone, credo che potrebbe essere un valore aggiunto. I territori attraverso i loro strumenti, attraverso i distretti, attraverso i gruppi di azione locale devono immaginare un progetto di sviluppo del territorio e farsi trovare i pronti poi quando uscirà l'offerta della regione tramite la comunità economica europea. Io confido molto nell'ottimo lavoro fatto dalle amministrazioni, in modo particolare negli ultimi 25 anni dai GAL sul territorio. Immaginiamo di fare quest'ulteriore passo, una sinergia tra amministrazioni, tra associazioni di categorie, tra produttori e con il territorio. Io penso che per la storia, la cultura, la bellezza di questo territorio in un discorso di multifunzionalità noi potremmo offrire tanti. I nostri centri storici, la bellezza delle nostre pietre, i colori, i sapori del territorio potrebbero creare una condizione reale.